Coulibaly in avanti verso Piontek, la testa di Pablo Mari, Piontek prolunga a Candreva. Cerca spazio, trova Coulibaly, destro di Coulibaly! Come ha calciato l'assana Coulibaly! Cerca certezze, Paolo Sousa ritrova il gol dei Coulibaly e che gol! Ha scelto il pennello per l'1-0, destro da vedere, rivedere, gustare quello di Coulibaly! E lui ad avviare l'azione cercando Piontek che poi è bravo a toccare per Candreva, si propone al limite, nessuno lo marca e lui ha questa idea bellissima di aprire il destro, carezza il pallone, Cragno vola, ma non si prende il tiro di Coulibaly! Mette gli occhi sull'incrocio e lì spedisce il pallone dell'1-0. Torna a segnare la Salernitana. Gol davvero, davvero bello. Oakhlet, lo davvero bello. Mol Grazie a tutti. Grazie a tutti.